Sono saliti a piedi fino al calderone il ghiacciaio più a sud d'Europa nel cuore del Gran Sasso divenuto un simbolo dei danni climatici per lanciare un appello fermare la catastrofe climatica a proteggere la biodiversità e frenare il consumo di risorse. La scalata di ieri è stato l'evento culminante della terza edizione di Climbing for Climate progetto ideato e promosso nel 2019 dall'Università degli Studi di Brescia a cui si sono uniti anche gli Atenei abruzzesi. L'obiettivo è quello attraverso escursioni ed eventi nelle università di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della crisi climatica che necessita di azioni comuni con divisioni di conoscenze e competenze. Ringrazio la RUS, la rete delle università per la sostenibilità per aver voluto organizzare questa giornata, la terza a livello nazionale nel nostro Abruzzo quindi sul Gran Sasso, su quello che possiamo definire l'ex ghiacciaio del Calderone il ghiacciaio più a sud d'Europa, quindi una giornata di sensibilizzazione ma le università sono costantemente in prima linea per combattere i cambiamenti climatici e per la sostenibilità. Ricordo che l'Università di Teramo ha ben cinque corsi di laurea in cui il termine sostenibile, sostenibilità, è addirittura nel titolo e tutti i corsi di laurea dell'Università di Teramo hanno all'interno degli insegnamenti che hanno a che fare con la sostenibilità così come i percorsi di ricerca e il trasferimento tecnologico quindi quella che chiamiamo terza missione così come delle scelte tipo plastic free piuttosto che l'abbandono dei motori endotermici per la mobilità quindi i cambiamenti climatici si combattono ogni giorno con le azioni, con la formazione e con la ricerca.